Qui ti dice, vuoi spendere 1200 gemme? Eh, ce n'è 1400! Che speciale! Questo, epico o superiore? Magari c'è leggendario, vediamo, guarda ti esce. Oh, leggendario, leggendario, no, epico. Speciale! Sofia, per poco! Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì! Papi! E oggi che facciamo di bello, Sofì? Oggi compieremo lo Stumble Game! E siamo tornati con un nuovo video di gameplay e questo video ce l'avete richiesto in tantissimi, vero Sofì? Perché giocheremo per la prima volta a... Stumble Game! Con l'account di Sofì! Infatti per la prima volta a schioppere questo gioco! È vero! Allora, voi adesso vedete, questo è il profilo di Sofia! Ecco, do qui sopra, tutto intorno a noi sopra, da tutta l'area del video. Questo è il personaggio che ha Sofia, un personaggio raro. Magari poi in un altro video facciamo vedere tutti i personaggi che hai trovato, vero Sofì? Non sono tanti, anche perché stiamo iniziando da poco. Mentre il mio personaggio per il video. Ma... qual è, qual è? Ah, la streghetta, è sempre rara. Ma la cosa che faremo oggi è comprare per la prima volta dal negozio... Lo Stumble Pass! No, in realtà non è lo Stumble Pass Premium, ah, è un'offerta di un pacchetto che ci permette di comprare lo Stumble Pass che abbiamo trovato in offertissima a 1,99 euro. Quindi compriamola subito, Sofia, perché con questa potremmo avere un giro spin extra al giorno, tutto per te. Infatti io sto rosicando, perché dovete sapere che anch'io c'ho il mio account e fra un po' shopperò anch'io. Quindi adesso compriamo questo pacchetto. Acquisto completato! Ce l'abbiamo fatta! Allora, Sofia, per la prima volta abbiamo shoppato. Guarda, ci dà già un altro pacchetto promo. Vabbè, qua adesso con 10 euro ci danno 650. Come si chiamano queste? Le Stumble Coin? Stumble Coin? Vabbè, non ci interessa perché guarda quante gemme che c'hai adesso. Allora, Sofia, fai tutto tu perché sei fortunata. Con queste gemme andiamo a comprare un Premium Stumble Pass e riusciamo a sbloccare anche quei giri di personaggi epici. Speriamo che sarei fortunata, sei pronta? Andiamo su Stumble Pass, guardate anche la mia streghetta. Finalmente potrei forse usare un personaggio almeno epico o leggendario. Dunque, ecco, questi sono tutti i personaggi che potete sbloccare. Attivalo. Qui ti dice, vuoi spendere 1200 gemme? Eh, ce n'è 1400! L'ho tirato, guarda! Ti ha già tolto 1200, però Sofia, adesso devi concentrarti. Con il tuo senso di fortuna potrai fare tutte queste ricompense che avevi sbloccato, eh. Sei pronta? Sì. Allora, vai, vai. Allora, iniziamo. Che incazuale. Questo epico o superiore? Magari c'è leggendario. Vediamo cosa ti esce. Oh, leggendario. Legendario no. Epico. Speciale! Speciale! Oh! Sofia! Per poco! Hai preso questo epico, esterminato. Sai per prendere quello speciale, il fantasma, il fantasma, quello di fuoco. Quello volevo. Va bene, però adesso comunque potrai sbloccare tutte le ricompense. Questa è scuotato, 100 gemme. Riscuotato, riscosso. Riscossa. Poi abbiamo le emoticons. L'emoticons, anche quella. 25 gettoni. 25 gettoni. Raro, superiore. Questo è un livello più basso. Raro, superiore. Dai, almeno che sia epica, 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 epica. Epica, epica. Hai questi capelli? Epica. Leggendaria. No! No! Dai, Sofì! Vabbè, almeno facciamo le loro delle loro. Eh, lo so, però. Dai, qua potevi prendere almeno uno epico. Qua cosa hai? Di scuoti. Ah, questo emoticons. Raro superiore. Ok, questo è come quello di prima. Adesso devi essere più fortunata. Dai, Sofì. Dai, almeno epico, 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 epico. Epico, epico, epico. Dai. Epico. Epica. No! Dai! Dai, il pinguino. Lo volevo. Dai, volevo almeno epico. Dai. Lo volevo il pinguino, è molto bello. Dai, ancora ci sono possibilità. Puoi sbloccare i passi. Qua si puoi metterli. Quindi, quando camminerai, ti riconosceranno tutti. Questo è sempre lo stesso livello. Dai, dai, epico, epico, Sofì. Magari esce uno leggendario. Qua si è epico. Dai, epica. No, per poco. Chi è questo? Yellow Racer. Ma, dice, devi per prendere il re. Sì. Sofì, non sta andando tanto bene questo tuo Stumble Pass. Dai, impegnati. Lo so, voglio impegnare. Allora. Ok, innanzitutto, Sofì, hai quanti gettuni Stumble adesso? Ne hai parecchi? Possiamo anche tentare un giro poi di quelli epici, sai? Con i gettuni Stumble. Andiamo avanti perché ora ti hai. Possiamo fare il rituale. Vediamo, vediamo. Che non sia rara, che non sia rara. Epica. Epica. Addirittura. Questa è epica. Epica. Sì, Sofìa. Chi è preso? Percercer. È bellissimo. Io lo ho proprio a giri adesso perché è bellissimo. Magari mi porta fortuna. Allora, questo è il tuo secondo epico però, eh. Adesso abbiamo un altro giro del tipo rara o superiore. Ok, andiamo. Dai, 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 riscuotiamo. Beh, però almeno quello epico l'abbiamo preso. Dai, dai. Un po' di fortuna. Leggenda. No, attenzione rara. Epica. Epica. Uuuu. Ma perché non si blocca? Chi è preso il detective? Lui verrà tutti i motivi per selezionare il leggerale. Io però adesso, amici, devo dire una cosa. Sto rosicando perché anch'io ho il mio account su StumbleGuys che si chiama Papi Sofì Papi. Invece lei è Sofì Papi. Ma io non c'ho neanche uno epico, c'ho solo uno raro. Chi c'ho? C'ho un decimus e poi... Sì, ma c'ho però anch'io, mi farò anch'io lo StumblePass. Poi abbiamo l'emoticon su quella di quando finiamo... Quindi poi lo possiamo personalizzare alla fine. Sì, poi abbiamo la skin casuale. Quanti giri, quanti giri. Questo è ancora raro, superiore. Leggendario. Leggendario, 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 leggendario. Ma questo è il doppione, già ce l'hai? No, questo non ce l'ho. Ah, ok, ok, vabbè, è raro comunque. Andiamo avanti, ci abbiamo un altro emotivo. E mi sa che è finito, perché vedi sei arrivata, tu praticamente attualmente sei a livello 17. Quando continuerai a giocare potrai sbloccare, oltre alle ricompense del pass normale, anche quelle premium. Hai 28 giorni, ce la potrai fare a giocare e fare tutto, Sofì. Allora, io direi di andare innanzitutto a personalizzare adesso il tuo personaggio. Vediamo quelli epici che c'hai. Secondo me ne due. Hai visto che ne due hai exterminato? Non mi piace più questo qua, Sofì. Che dici? Poi puoi mettergli le emoticons, quelle particolari. Siamo Rari, sono Rari. Vabbè, ma adesso Rari che te ne frega, alla fine. Sono belli, sono bellissimi. Ma sono belli quelli epici. Ci manca la mettere i passi e anche le animazioni. Ora puoi mettere anche quelli del premium pass. Allora, mettiamo. Vediamo. Il colore va bene. Addirittura il colore, vediamo. Allora. Questo talent è bello. Sì, usa. Lo devo inserire. Al posto di? Lo inseriamo. E poi passi, passi, Sofì. Che bello questo. Anche il balletto. Usiamo questo. No, ma io lo voglio. Questo mi faremo. Amici, io voglio lo stumble pass. Lo devo avere perché devo personalizzare il mio personaggio. Scia. Scia, ah ah ah. Ok. Adesso però, Sofì, l'abbiamo personalizzato. Prima di salutare i nostri amici, direi di fare un ultimo giro con gli stumble coin. Dunque, 35. Puoi fare due giri. Due giri? Li vuoi fare una alla volta, oppure tu due tutti insieme? Due tutti insieme. Allora, fai per due. La percentuale è 88% epico e soltanto l'11% leggendario. E uno su cento praticamente esce quello speciale. Incrociamo le dita. Waiting. Dai, dai, leggendario. Legendario. E se esce quello speciale? Legendario. Legendario. No, vabbè, amici, ma io non ci posso credere. Una possibilità scorta, vedi? Hai preso il leggendario e poi uno etico. Sofia, hai il tuo primo leggendario. Io sto rosicando come una peregina. No, ragazzi, non è possibile. Lei c'è il leggendario. Vado dubito a me, le leggendario. Quindi adesso Berserker non lo usi più, c'è il leggendario. No, 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 non me ne frega più niente di Berserker. Eh, beh, mi ti credo. Quindi adesso, Leonidas, è bellissimo. Poi Sofia, io sono leone. Ti prego, dammelo. Passamelo. No, no, non chiudà. Amici, quindi abbiamo già detto che abbiamo due account adesso. Poi, aspettila di fare girare leone. No, no, no. E' troppo felice di avermi come padrone. Come ci avete anche voi consigliato, prossimamente magari giocheremo io e Sofia perché ci stiamo allenando. Dovete sapere che Sofia ha quante vittorie, sei vittorie. Io solo due. Prossimamente magari penseremo di fare qualche live con Papi Sofipapi. Sofipapi e voi. Saremo in live, vi daremo il codice partita e ci sfiderete. Ma adesso è il momento dei... Saluti. Bye. E quindi iscrivetevi al canale per supportarci. Stabagdines. Stabagdines. Per aprire nessun video. Mettete like e sfiderci su nostri social. Ovvero Instagram. TikTok. Leonidas. Leonidas. Diciamo nel prossimo video. E ciao Leonidas. Al prossimo show. Ciao. Ciao.